E a Roma, a Palazzo Chigi, è in corso il vertice tra i rappresentanti delle aree colpite dall'alluvione e il Governo. Presente anche la Premier Meloni in servizio di Paolo Pini. È iniziato poco dopo le 12 l'incontro a Palazzo Chigi tra il Governo e i rappresentanti istituzionali dei territori colpiti dalle alluvioni del mese di maggio. Sarà un tavolo operativo permanente guidato dal Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci in attesa del Commissario, ha detto la Premier Meloni, presente assieme ai vicepresidenti del Consiglio Tajani e Salvini e a un'ampia rappresentanza dei ministri, una decina tra i quali quelli dell'interno, sanità, istruzione e lavoro, industria, per i territori alluvionati, oltre ai presidenti di Emilia Romagna, Toscana e Marche, Bonaccini, Gianni e Acquaroli, anche i presidenti delle province interessate. Per l'Emilia Romagna, Forlice Sena, Ravenna, Rimini, Modena, Reggio Emilia e il sindaco della città metropolitana di Bologna, unanime la richiesta, fare presto per la ripartenza e per la nomina del commissario. Tema dell'incontro, la quantificazione dei danni per l'avvio della ricostruzione di strade provinciali e comunali, ferrovie, ponti, linee di comunicazione. Una prima stima parla di una cifra superiore al miliardo per le sole strade appenniniche. Nel complesso, l'entità dei danni solo per il comparto infrastrutturale potrebbe salire oltre i 3 miliardi di euro, ma è ancora presto per parlare di numeri perché molte frane sono ancora in movimento. Nel pomeriggio alle 18 si riunirà il Consiglio dei Ministri e non si esclude che verranno presi nuovi provvedimenti a favore dei territori alluvionati, attesa ma non scontata anche la nomina del commissario.